Evitare gli assembramenti tra gli studenti a scuola, ma anche sui mezzi pubblici, nel tragitto da casa verso gli istituti, è uno dei temi caldi di questa difficoltosa ripresa delle lezioni in classe. Per questo motivo Autoguidovie, il gestore del trasporto pubblico in provincia, ha voluto ricordare un importante servizio di prenotazione del posto a sedere sui suoi mezzi, attivo dallo scorso mese di luglio. A seguito dell'emergenza coronavirus è cresciuta infatti la necessità di introdurre nuovi strumenti tecnologici per offrire un servizio sempre più semplice e comodo a chi si muove con i mezzi pubblici. La prenotazione dal 28 settembre è stesa più linee. Il servizio di prenotazione tramite l'app scaricabile sullo smartphone è stato in questi mesi potenziato per venire incontro alle esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie. L'utente prenota con l'applicazione, con il biglietto che può acquistare contestualmente la prenotazione stessa o con titolo di viaggio già acquistato precedentemente, sempre su app o in rivendita o infopoint. La prenotazione e l'eventuale acquisto sono confermati attraverso una notifica sull'app e una mail che contiene anche il numero del posto assegnato. Grazie alla prenotazione i passeggeri possono pianificare il proprio viaggio con anticipo fino a tre giorni prima e per i successivi tre giorni. La prenotazione potrà essere effettuata fino a 15 minuti prima della partenza della corsa dal capolinea.